Io trovo davvero inaccettabili le affermazioni di Matteo Salvini in spregio totale all'indipendenza e autonomia delle decisioni dei magistrati e quindi ricalca esattamente il linguaggio a cui ci hanno abituato molti politici del nostro Paese. Ma devo dire anche che sono spiacevolmente ma non meravigliato delle dichiarazioni dello sgabello politico di Salvini che Di Maio oggi ha fatto delle affermazioni parlando di sorpresa, meraviglia, sconcerto nei confronti di questo provvedimento della magistratura. Io davvero credo che lo Stato stia perdendo il senso dell'equità e della misura il senso della divisione dei poteri previsti in magistratura trovo molto grave che vi sia una direzione politica sempre più pregnante di articolazioni dello Stato trovo assolutamente inquietante che sia passato per normale che una persona che salva video umane viene arrestato e chi fa arrestare tante persone in baria del mare e dello Stato diventa il depositario della legalità formale. Con la decisione del giudice di Agrigento credo si ristabilisce la dignità e l'autorevolezza del diritto poi sulle decisioni della magistratura ognuno la può pensare come vuole ma vanno rispettate perché se non condivise c'è chi eventualmente le impugna ma un ministro dell'interno che ha la direzione politica delle forze di polizia deve portare rispetto per le decisioni che non condivide della magistratura non può dire che chi emette un provvedimento di quel tipo si deve mettere a fare politica davvero stiamo a un livello così scadente che credo questo governo per quanto ci riguarda sotto il profilo della dignità dello Stato è abbondantemente scaduto.